L'estate degli ombrellini della discordia. La stagione calda del 2016 rischia di passare alla storia di Gela come quella che ha diviso la città tra i pro e i contro l'idea di abbellire il centro storico con la posa degli ombrellini colorati. Per carità, idea scopiazzata da altri comuni, ma che un fondamento di estetica gradevole l'avrebbe persino potuta avere. Se non che, in questa città una cosa, che sia una, fatta veramente bene, non si riesce proprio a partorirla. Intanto non serviva certo un provetto colonnello Bernacca per scoprire che dall'indomani della posa degli ombrellini erano previsti tre giorni di vento forte sulla città del Golfo. Sarebbe persino bastato consultare i tanti siti specializzati di meteorologia per sapere che Gela stava per essere interessata da folate di vento di ponente che avrebbero interessato per diversi giorni il nostro territorio. Ed invece la sera prima montati e già l'indomani gli ombrellini erano ad inseguire il vento più che a coprire le teste dei gelesi che passeggiavano sul corso principale. Non solo, ma poi è esplosa anche la polemica politica sul costo dell'iniziativa, con l'assessore al ramo Eugenio Catania che sul tema non è che sia stato così esaustivo. Fatto sta che ancora ieri sera in Consiglio Comunale ha tenuto banco la storia degli ombrellini e quanto siano costati. Si dice 9.000 euro e se così fosse chiediamo ufficialmente all'Aggiunta Comunale di sospendere immediatamente l'eventuale pagamento di questo servizio e per un motivo molto semplice, grave inadempimento del servizio prestato. Su via, che gli ombrellini siano di scadentissima qualità se ne accorge anche un bambino, che siano stati montati a sesso maschile di cane pure. Ora si può comprendere che a portarseli via e a renderli un obbrobrio sia stato il vento forte dell'estate gelese, ma che anche durante i giorni di calma piatta, questi ombrellini sono alcuni chiusi, altri impiccati e altri ancora sgangherati, beh, questo non è assolutamente accettabile. E' allora che si sospenda il pagamento alla ditta a cui è stato appaltato il servizio. A proposito di questa ditta, pare che l'assessore Catania abbia affidato l'incarico ad un'associazione che con la passata amministrazione comunale andava letteralmente a nozze. Ed anche a chi accusa questa amministrazione di perfetta continuità con il passato, e cioè con i precedenti governatori della città, la vicenda degli ombrellini non ha certo aiutato a sfatare questa diceria. E mentre i gelesi, come Regalo Preferragostano, stanno ricevendo a casa dai solerti uffici i tributi del comune di Gela e il bollettino per il pagamento annuale della tassa sui rifiuti, non si placano le polemiche politiche sul servizio di raccolta differenziata in città. Nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri sera, il consigliere Giovanni Panebianco è tornato a puntare l'indice sul rapporto tra amministrazione comunale e Tecra, ossia la ditta campana che gestisce da un paio di anni in città il servizio di raccolta rifiuti. Panebianco ha in particolare sollevato il caso della mancata applicazione delle penali alla Tecra per non essere riuscita nell'intento di raggiungere livelli percentuali ottimali di raccolta differenziata. A Panebianco ha risposto l'assessore comunale al ramo, Simone Siciliano, che gli ha ribadito come l'amministrazione comunale su questo fronte si stia muovendo secondo i parametri imposti dalla giurisprudenza. E a chi invece, come i consiglieri di Reset 4.0, Francesca Caruso e Luigi Di Dio, sollevavano il problema delle condizioni in cui si trovano a lavorare gli operai della Tecra, lo stesso Siciliano ha risposto che non è vero che i lavoratori della Tecra non abbiano a disposizione i necessari dispositivi di sicurezza. Insomma, mentre in Sicilia il governatore regionale Crocetta non riesce a trovare la quadra sulla soluzione della gravissima crisi di un'isola stupenda ma sommersa dai rifiuti, a Gela tiene sempre banco questa delicatissima vicenda che, per la terza estate consecutiva, ha costretto i malcapitati cittadini gelesi a dover convivere con cumuli di spazzatura da ogni angolo di strada e problemi connessi. Ed è ancora fresca la pessima immagine che si è data di Gela con i rifiuti sparsi in maniera indecorosa per tuttavia Rio de Janeiro nei giorni scorsi. Ed è per questo che servono interventi non tampone ma duraturi per rendere al più presto la situazione non più emergenziale ma stabile. Da un lato dunque una gestione oculata del servizio ma dall'altro anche una cittadinanza che cominci a sforzarsi per fare seriamente e regolarmente la raccolta differenziata dei rifiuti. Perché senza questa comunione di intenti non si risolverà assolutamente nulla e la città resterà sempre sporca come in questa calda estate. Grazie a tutti.